ciao a tutti è finita la settimana delle prove qual turistrofi 2016 oggi ho patito un altro inconveniente alla moto superbike che prediligevo tra le due ho dovuto abbandonarla dopo un giro e adesso vedremo di risolvere il problema se risolvibile ho poi preso la stock ho fatto due giri per verificare anche i consumi di carburante che non eravamo ancora riusciti a verificare e nonostante ho trovato traffico e con le gomme intagliate non mi sento molto bene sono riuscito a fare il mio best qual tt ho fatto 122 7 sono contento a metà perché il giro sarebbe stato un po più performante però pazienza mentre con la superbike appunto ho fatto solo un giro e ho partito un problema dunque sono andato più piano del tempo che ho fatto tre giorni fa che era 122 1 sono dunque qualificato nella superbike c col quante cinquesimo tempo con questo 122 1 nel superstock di lunedì non sono ancora pronta la ghiglia di partenza però credo di essere intorno alla trentesima posizione con appunto 18 minuti 26 secondi nulla adesso stiamo spostando delle cose sulla Gomez League sulla moto stock domani utilizzerò quella nella gara superbike comunque le sensazioni sono buone domani cercherò di dare il massimo i ragazzi stanno lavorando bene e non c'è nessun motivo per cui non si possa pensare di poter fare una bella gara increscendo e di aumentare appunto il tempo fatto fino ad ora giro dopo giro grazie a tutti ci risentiamo dopo la gara superbike